Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vi leggo un testo con il titolo Beiti Waghurfati La mia casa e la mia stanza Lo scopo di questo testo è imparare come si dice c'è oppure ci sono Come vediamo in fondo della pagina ci sono due parole Yujad e Hunak Entrambe queste parole hanno il significato di c'è oppure ci sono Partiamo con la lettura Aهla bicom fii beiiti Albiet giamilun wakariibun Minn ha diقة il medina Hàdihi ghurfati Fii ghurfati yujadu sarirani wamektab Albiet giamilun wakariibun Huna ke malafatun waklam Albiet giamilun wakariibun Huna ke nafidatun Albiet giamilun wakariibun Grazie a tutti